A Castellamonte, Curnier e Lanzo sono entrati in funzione tre nuovi bike box realizzati nell'ambito del progetto parcheggi di interscambio per la mobilità ciclabile della città metropolitana di Torino. I bike box e il servizio che assicurano i ciclisti sono stati presentati dai sindaci di Castellamonte, Curnier e Lanzo, Pasquale Mazza, Giovanna Cresto e Fabrizio Vottero Bernardina. Possono essere utilizzati liberamente e senza costi e chiusi mediante un lucchetto personale. Nel corso della conferenza stampa è stato anche presentato il servizio di car sharing 5 che la società 5T sta sperimentando a Castellamonte, Lanzo e Curnier. Beppe Pezzetto, neopresidente del Consorzio 5T, parte una sperimentazione in tre comuni che sono poi testate di altrettante vallate. È importante per capire nei territori a domanda debole come risponde l'utenza? Sì, sicuramente questo è un importante progetto pilota che serve proprio per andare a capire come si riesce in qualche modo a supportare anche realtà che sono pedemontane o montane nel cambiamento di paradigma della mobilità che deve sempre essere più sostenibile. 5T ha altresì la fortuna di avere anche una storicità importante nella raccolta dell'informazione e nella digitalizzazione della mobilità e quindi credo che questi risultati saranno importanti non solo per questo territorio ma anche poi per l'espansione in territori più ampi. I concittadini di Castellamonte cambieranno nei prossimi anni il loro modo di muoversi? Immagino di sì, immagino di sì. Noi faremo di tutto per promuovere questo tipo di mobilità che è un tipo di mobilità assolutamente sostenibile e dal punto di vista economico e dal punto di vista ambientale che poi è l'obiettivo principale di quello che è il piano urbano della mobilità sostenibile che Città Metropolitana ha sapientemente già approvato e assieme agli amministratori, assieme a tutti coloro che sono attori su questo tema andrà a far evolvere nel corso del tempo perché è evidente che il piano non è un piano statico ma è un piano dinamico. Che cosa si aspetta dunque la città di Curnie da questo nuovo servizio, queste nuove opportunità offerte ai cittadini? Beh sicuramente che i cittadini soprattutto coloro che magari per problemi economici non hanno la possibilità al momento di avere un'auto privata, un'auto familiare, possano effettivamente comunque avere un mezzo per spostarsi sul territorio. Quindi questo è uno dei primi delle prime finalità che vorremmo perseguire soprattutto a livello sociale. Poi è chiaro che qui interviene tutta la tematica ambientale quindi l'utilizzo condiviso di un'auto piuttosto che comunque gli spostamenti verso il luogo in cui si trova l'auto in bicicletta vanno a influire in modo importante su quella che è invece la qualità del nostro ambiente. Come amministrazione abbiamo da subito aderito con entusiasmo proprio perché insomma ci sembrava un progetto da portare avanti assolutamente con convinzione nell'ambito appunto delle politiche ambientali. Anche per l'Anso è un cambiamento di paradigma, un modo diverso di approcciarsi alla mobilità partendo da tre vallate che convergono sull'Anso. Certo, sicuramente come abbiamo detto anche prima è un cambio di mentalità, non semplice ma noi vogliamo provarci, vogliamo dare un'opportunità a Lanzo ma a tutte le vallate da cui si estendono da Lanzo in su. Quindi dare una voce, un'opportunità in più ai cittadini del nostro territorio per raggiungere la città e altre vallate come tra l'altro abbiamo avuto la possibilità di collaborare in questo progetto, quindi poter conoscere altri territori e confrontarci e interfacciarci tra di noi.